Non c'è mai capitato così, che ci trova in pubblico, che li fa giù, ma la gente è meglio di ogni pari, ti tocca il culo e poi ti scrivo un po', tu che ridi, che dici no, e a raggiungi da un vestito di un po' in là. Ma dove trovi più un mondo simile, che mi riletta e mi siora, che fa stare così bene, ti senti spermi, che mi riletta e mi siora, che fa stare così bene. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!